Le pratiche SUAP, lo sportello unico delle attività produttive e le pratiche SUE, lo sportello unico di edilizia afferenti il comune di Agropoli, si fanno online. L'ente guidato dal sindaco Adamo Coppola ha attivato un'apposita piattaforma di acquisizione delle pratiche riguardanti i settori commercio ed edilizia. La stessa è raggiungibile attraverso un link. La procedura telematica attivata, afferma il sindaco Adamo Coppola e l'assessore alle politiche economiche e finanziarie Roberto Mutali Passi, risulta di maggiore rilievo ancora di più in questo particolare momento storico contraddistinto dalla pandemia. Puntiamo alla digitalizzazione anche degli altri settori in modo da avvicinare la pubblica amministrazione all'utenza che comodamente da casa può interfacciarsi con l'ente, presentare le pratiche senza recarsi fisicamente negli uffici. Con lo sportello telematico polifunzionale è possibile presentare online tutte le pratiche a qualunque ora del giorno senza recarsi personalmente presso il comune. La pratica presentata attraverso tale strumento infatti sostituisce completamente quella in formato cartaceo perché rispetta i dettami del codice dell'amministrazione digitale. Lo sportello telematico polifunzionale permette di consultare tutte le informazioni e le norme necessarie per presentare la pratica, compilare e firmare in modo guidato i moduli digitali, effettuare eventuali pagamenti online, controllare ogni fase dello stato di avanzamento del procedimento.